allora questo non è ne aglie né cipolla è nato selvatico qui al mio orto adesso provo a cavare la zappa vediamo un po' eccolo qui guardate adesso lo cavo 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 guarda 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 quanto è bello ah questo è l'erba cipollina guardate vedete i semi che è in tutto guardate questi sono tutti i semi tutti i semi adesso questo è l'altro qui questo è l'altro l'erba cipollina un altro sta qui lo vedete adesso lo provo a cavare ecco qua adesso si è cavato ho fatto con due mani ecco qui vedete vedete adesso questo lo metto a parte vediamo se ce ne sono altri qui a questa parte così le raccolgo se l'altro sta qui vicino ecco no questo sta aggiungando vabbè trovo gli altri